Bardozzi? De Marchis! Liceo Virgilio! No, non ci posso credere! Ma quant'è che non ci posso credere? Liceo Virgilio, no? Sì! Mamma mia! Non so, più di dieci anni! Ma di più per forza! Ma è incredibile! Ma lo sai che sei proprio in forma? Ma pure De! Ma veramente? Sempre bella, sempre! Questa cosa è assurda che ti incontri! Veramente! Cosa fai qua? Eh? No, dico, cosa fai qua? Eh, qua faccio teatro! Teatro? Teatro? Sì, faccio l'attrice! Ma non ci sono teatri qua? No, qua no! Infatti no, qua! Giù facciamo le prove! E allora io mi volevo prendere un caffè e sono venuta... Ma non ci sono bar qua? Appunto, dicevo! Non ci stanno bar! E camminavo giù, mi sa che giù! E te? Cosa? No, dico, che fai tu qui scusa? Ah no, sto aspettando degli amici che andiamo a una festa... Una festa di carnevale così, siamo un po'... Carnevale non è il periodo di carnevale? No, dico festa nel senso carnevale perché è una festa in maschera... Ma qui? No! Cioè, andiamo dai nostri amici, ci troviamo tutti qua, poi io non so neanche dove sono sinceramente... Ah, cioè ti passano a prendere qui? Sì, ci passano a prendere andiamo! Ah no, pure a me ti ho detto che andavo a prendere il caffè! Ma senti, ma tu però eri adattissima a fare l'attrice! Ma fin da proprio dai tempi... Da piccola, se ti ricordi? No, eri sempre proprio sui banchi molto... Insomma, sì sì sì... Ma poi se... Ti ho detto se... Io faccio spettacoli al... Dai, ti vedo a vedere! Sì sì, dei gradi! Oh! Eh? 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 E così fai l'attrice! Sì, sì, la mia proprio è una passione... Brava, brava! Fin da piccola! E te invece vai a l'effetto? Sì, ma guarda! Sì sì!